L'Apo Elkan dedica delle commosse parole di addio all'amata cugina Virginia Maria Clara Virginia von Fursteberg, stilista 48enne trovata senza vita in una terrazza al primo piano del lussuoso Hotel Palace di Merano. Le circostanze del decesso sono ancora da chiarire, ma l'ipotesi di suicidio è la più probabile. Già lo scorso febbraio la figlia di Sebastian Egon von Fursteberg e di Elisabetta Guarnati, era scomparsa da casa per diversi giorni, salvo poi rientrare a sorpresa dopo che i carabinieri erano state messi in allerta. L'Apo Elkan ricorda Virginia Maria Clara su Twitter, sono molto triste per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una donna con un cuore d'oro, una mamma tenera, piena di amore con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina riposa in pace, che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare. Virginia von Fursteberg era nata a Genova nel 1974 dal matrimonio di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fursteberg, fondatore e presidente onorario di Banca IFIS. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003. Funerali. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video. Grazie. 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 Grazie.